Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di test. Oggi, 8 marzo, festa delle donne. Tanti auguri a tutte quante le donne. E visto che siamo in tema e questa è una puntata di test, rispondiamo alla domanda Perché l'8 marzo è la festa delle donne? Come molti di voi sapranno, nel 1911, durante uno sciopero, 129 operaie persero la vita a causa di un incendio. Cazzata! Infatti, quanto appena detto, è un falso storico. La versione cambia da paese a paese, come il numero delle vittime, la data, il motivo dell'incendio e così via. Per chi volesse approfondire, c'è un libro intitolato l'8 marzo che parla proprio dell'origine della festa della donna. Infatti, la festa della donna fu proposta nel 1909, dal Partito Socialista americano. La cosa non prese molto piede, ma l'anno successivo, nel 1910, l'iniziativa fu ripresa da Clara Zetkin, che la presentò a Copenhagen durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste. Però c'è da dire che fino al 1921 ogni paese scelse un giorno diverso per la celebrazione della festa della donna. Durante la seconda conferenza delle donne comuniste a Mosca, esattamente nel 1921, venne scelta come data unica l'8 marzo, in ricordo della manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo nel 1917. E per citare il buon vecchio Joseph, di una bugia un milione di volte e diventerà una verità. Infatti l'iniziativa nei primi anni di vita non prese molto piede, quindi fu inventato questo falso storico per favorire la divulgazione e l'attecchimento dell'iniziativa, poiché ogni motivazione politica non aveva preso piede. E per concludere, prima di salutarvi, vi voglio lasciare con un'ultima curiosità. Come mai ci regano le mimose? Il merito va tutto quanto alle donne romane, che per organizzare un evento nel 1946, vollero scegliere un fiore che fosse di stagione, e furono quasi obbligate a scegliere la mimosa, uno dei pochi fiori che fiorisce a marzo. Questo è tutto quello che avevo da dire oggi in questa puntata speciale. Io vi saluto, un augurio a tutte quante le donne e noi ci vediamo alla prossima puntata.